mi dice una cosa ma lei qui ora questo signore conosce questo signore conosce tu signor barone ma siete muti ma vi capite chi tu parla americano e tu parla ma tu parla siciliano ma tu parla siciliano che ora ha chiesto un titolo un americano contro un siciliano un siciliano contro l'americano siciliano un saluto a tutti i parenti dell'america ce l'ho a dare noi a parente dell'america come hai incontrato tutta la gattuta del mondo a mezzo chiuso ma siamo qui a mezzo chiuso il paese in cui ci sono tutti la gattuta specialmente gli azzani come me ma poi poi si dice c'è mello l'ap e mello la puna la gattuta la gattuta tu riguarda gli azzani ma chi non è la gattuta non ci sono poco fa ho visto che hai fatto delle foto che cosa hai fatto per una collezione le foto della famiglia la gattuta per fare un libro nel futuro una mostra galleria non so devo decidere nel futuro e da quanto tempo che sei nato in america oppure dico sei nato in america tu oppure qua e a mezzo chiuso ma sì sono nato america e mio bisnonno è nato in mezzo chiuso come si chiamava il nome giovanni battista la gattuta si è sposato con anna gattuso e ha individuato di che sono che sono gli asceni che erano gli avi qua e parte di azzani hai detto e questo signor la gattuta qua questo pino la gattuta figlio di minico non quella ex guardia comunale siete pure parenti penso di no perché lui non è degli azzani io stuccio stuccio il figlio di minico stuccio stuccio io azzani però lui è uno dei più importanti uomini nel questo paese lui sì perché perché se sei una cosa da fare chiama pino bravissimo ma lui è così tu a sapere una cosa scusa faccio una cosa secondo me questo signore si vuole portare per sindaco secondo me devo fare una bella foto per un campagna elettorale il futuro sindaco di mezzo chiuso è elettorale verica veria ci rompe le corna come ti è sembrato romezzuso da l'ultimo orto sei venuto a mezzo quando niente è cambiato nel senso che è un paese meraviglioso pieno di persone simpatiche paese bellissima certe cose è cambiato perché tu mi hai fotografato con un cellulare e allora non c'era almeno un cellulare ma anche telefono avevamo prima e poi diciamo qua a mezzo noi siamo sempre quasi lo stesso si invecchiamo perché i picciotti ce ne piccano non c'è niente e per quanto riguarda invece come ambiente come come modernità il paese strade nuove cosa ne hai incontrato il paese in cui il nuovo mondo si è incontrato con il vecchio mondo va bene tu ci verresti a vivere a mezzo chiuso oppure ti sembra un po' piccolino nel senso va abituato a tornare alla grande mela se è un signore devo tornare a los angeles ma devo ritornare a mezzo chiuso non è la cattuta quindi però ho conosciuto cristiano e chi è qui la cattuta la cattuta e questo signor barone come chi è nella televisione sempre nel re come chi è paolini nella televisione ora un saluto questo lo pubblichiamo su youtube qualcosa e io pure un saluto a tutti io sono nicolai perniciaro che fa sempre un giro in mezzo chiuso tanti saluto a tutta la cattuta del mondo rimenzioso e anche a tutti i perniciari del mondo aspetta la cattuta raggiunta italiani nel mondo italiani no questa è mezzo saluto nel mondo il signor mele questo è il signor mele il figlio è un amico mio chiedere ci siamo che facciamo tutti i giri ma facciamo riuscire non è il signor mele il signor mele il signor mele ti saluto un bello braccio grazie per l'acqua saluto a tutti gli americani e mezzo sera a tutti sono facendo un saluto sono facendo un saluto stiamo partendo por qui